L'Italia in vetrina E' un po' di sorprese che probabilmente troveremo sul palco di questa edizione del festival, mancano pochissime ore e non vediamo l'ora che inizi. Stiamo parlando di una bellissima azienda, Alfa Parf, poi ci raccontate le caratteristiche di Alfa Parf, con Francesco Arancio e Graziano Scamarcio. Ciao a tutti. Ciao, ciao Veronica, ciao a tutti. Grazie per questo invito. E' un piacere per me anche perché insomma io veramente adoro parlare di look, di moda, di art style, anche perché c'è sempre da imparare e poi mi piace osare, mi piace... Siamo qui per te, Veronica. Bugiardi, bugiardi. Però ecco, mi lascio coccolare volentieri e soprattutto voglia di scoprire, grazie alla vostra competenza, anche alla vostra visione, quello che secondo voi c'è da aspettarsi su questo palco dell'Aristone, soprattutto dal punto di vista femminile. E quindi diciamo tutte le donne che saliranno questa sera. Quest'anno dobbiamo veramente aspettarci tantissimo. Abbiamo dei big straordinari. Io tifo tantissimo per Big Mama, perché la vedo veramente una persona eccezionale sia nel look e sia perché molti ragazzini, la nuova generazione Z, sono lì che l'aspettano con tanta voglia e tanta carica. Quindi siamo tutti entusiasti di vedere un look meraviglioso. Poi lei è davvero una persona eccezionale anche oltre al look per quanto riguarda il suo stile, il suo modo. Le sue canzoni. Ah, le canzoni, i palavi delle canzoni. Allora, dovete sapere, lo racconto anche a casa, soprattutto per chi non sta vivendo la bellezza della città di Sanremo, anche da Metamorfosi, che Sanremo vive in questo ormai, dico due settimane perché si inizia molto prima, per poi finire ovviamente domenica 11. Ieri c'è stato il green carpet, quindi dal palafiori all'ariston di Sanremo e tutto un tappeto verde, vero, fiori meravigliosi che ovviamente accoglie la passerella degli artisti in gara. C'è stata la sfilata di presentazione di tutti i protagonisti di questa edizione e abbiamo delle foto prese proprio dal green carpet di ieri. E quindi, ecco, la prima che vediamo è la Loredana Bertè, in blu. Innamorato. Ma innamorato per noi addetti ai lavori è un'icona del rock e del punk. Io a lei l'adoro perché nella sua imperfezione a livello tecnico di colorazione, quindi questi colori vissuti, la rendono unica. E quindi questa colorazione a me fa innamorare anche nella parte creativa che noi mettiamo ogni giorno all'interno dei saloni. Quindi la sua imperfezione è sempre la perfezione assoluta. Quanta cura richiede un azzurro di questo tipo? Guarda, un azzurro deve avere una base e una buona preparazione, quindi devi studiare prima di arrivare a questi look. Ma soprattutto anche a questo look vissuto, perché anche è un mix di colorazione dirette che la rendono padrona. Ok, quindi un piccolo errore può cambiare. Padrona appunto, secondo me, indipendentemente dal colore dei capelli. Adesso è un po' di anni però che lo porta. Sì, devo dire che lei ha cambiato tanti look. Noi creativi seguiamo sempre i look quelli più stravaganti. Soprattutto io amo tantissimo fare questi look. Lei è da tanti anni che porta questo look e secondo me è uno dei look migliori che sta portando. Quindi è proprio suo. Tu non sei azzurro, ma anche tu hai un bellissimo look. Ah sì, grazie. Che sembra buttato lì, guarda mi sono un attimo acconciato, invece immagino cura, ricerca, anche per il mestiere che fai. Non tantissimo però, sì, un po' di cura sì. Un po' di cura sì. Vediamo un'altra foto. Rosa Villain, sempre sul green carpet di ieri. Ecco, la vedete bene voi? Vi piace, non vi piace? Ragazzi, lei è veramente straordinaria, bellissima. Anche lei ha scelto questo blu sulle lunghezze, lunghezze punte con questa base lasciata forse naturale, credo. C'è questa differenza che la rende padrona dello shadow of the roots, quindi della radice più scura. Era un po' che non vedevo più questo gioco. Ma sai, lei mette risalto tantissimo i suoi occhi. Se andate a vedere, non è una cosa fatta banale. La prima cosa che ho osservato ieri vedendola è quello che mette subito risalto i suoi occhi. Posso dire una cosa che forse è da incompetente, ovviamente non è il mio mestiere. Certo, vederla subito dopo Loredana Bertè, come dire, nulla di nuovo all'orizzonte, è un blu già visto. È un look già visto, però guarda che sono diversi, perché come ho detto poc'anzi, quello look vissuto, questo è un look più costruito, quindi più artefatto, è diverso. Anche più blu puffo. È più blu puffo, brava, quindi più intenso. Non me ne vogliate, amanti di Rosa Villain. È vero, sono due blu completamente diversi. Questo è molto più costruito ed è costruita proprio l'immagine. Vediamo che, come diceva il mio collega, Loredana ha un look molto più frissantino, meno costruito. A me piace vissuto proprio, quel colore già che è andato via. L'avete citata poc'anzi, Big Mama, ma non abbiamo visto la foto. Non me la toccate perché io la adoro. No, no, chi te la tocca? Eccola qua, la pantera nera sul green carpet di ieri. Anche lei con in mano un mazzo di fiori di Sanremo. la sua grinta, la sua procacità. E devo dire, poi se ascolta le interviste, è anche una timidezza, un rispetto nell'affrontare una dimensione quasi sacra come quella del palco dell'Ariston. Lei è tanta roba, ragazzi, è tanta roba. È potente. Ha un look che davvero colpisce. Parliamo di, sì, capelli, parliamo di outfit, parliamo di un total che davvero attrae tantissimo, attrae l'attenzione e credo che davvero lei sia la punta di diamante di questo festival di Sanremo. Gli occhi sono puntati su di lei. Come sono puntati su di lei? Gli occhi su Anna-Lisa. Foto di Anna-Lisa. Anche lei, credo, mi dicono, abbia una bellissima canzone. Gli occhi, eccola. Lei è sempre elegante, romantica. Passiamo da un punk a un rock'n'roll e andiamo più al glamour, quindi una colorazione che è tendenzialmente sul caramello. Lei è bellissima, quindi la addolcisce così tanto anche la frangia, quindi lei sta veramente da Dio. Questo colore di afano, questa pelle è molto bianca. Noi speriamo quest'anno che qualcuna di loro, rispetto al green carpet che ieri abbiamo visto, qualcuna oggi possa davvero dare una svolta al proprio look. Per la serie lunedì ci avete visto così, domani cambiamo completamente. Ci aspettiamo anche questo. Sicuramente poi ne riparleremo. Guarda, ti interrompo, scusa. Ma sicuramente. Eppure è bello perché a Sanremo, all'interno dei nostri saloni, quindi saloni firmati Alfa Parfi Milano, che seguono attentamente la moda, è bello quando le nostre clienti arrivano e guardano dei look e dicono voglio creare questo look. Per noi è una cosa bellissima, è una vittoria, è una comunicazione fortissima per il nostro settore. Un colore tipo quello che Annalisa penso che possa essere facilmente richiesto e anche riproducibile, nel senso che... Sì, è un colore più commerciale che riusciamo a riprodurre, lì anche ha bisogno di una tecnica, anche di uno studio per creare questo colore e associarlo anche all'incarnato di ogni modella, perché se no, di ogni cliente, perché vai a rovinare se no e non fai a enfatizzare il colore. Quindi rischi di rovinare anche la bellezza della nostra cliente. Sicuramente è meno frequente la richiesta di un blu che magari di un rame o di un caramello o di altro. E anche sul blu o anche sul caramello bisogna abbinare le giuste tonalità. A volte le clienti bisogna consigliarle, essere anche magari un po' schietti. Brava, brava, Veronica, sì. Noi piace ascoltarle, più prima di iniziare... Facciamo una seduta psicologica. No, l'ascoltiamo per dieci minuti e capire qual è il risultato che vuole ottenere. Da lì riusciamo a decidere. Un vero professionista dovrebbe fare quello, ascoltare e poi agire e quindi capire... L'interesse della cliente. L'interesse della cliente. Allora, ultima foto che commentiamo insieme è quella di Alessandra Moroso. Eccola qui, amoroso. Ma qui ci siamo accorti che lei ha cambiato completamente look ai suoi capelli, un hair look completamente diverso, è diventata bionda. Bionda? Dal suo castano. Ma da quando, scusa? Ma da poco. Cioè lunedì è diventata bionda? Da poco. Adesso è arrivato un biondo più chiaro, ha fatto crescere i capelli, lei aveva sempre un taglio molto deciso, molto strong, quindi adesso è passato un po' all'eleganza, quindi ha cambiato un po' il concetto e ha puntato tantissimo all'eleganza. Esatto, una parola che ritroviamo, probabilmente ritroveremo, anche nel suo testo, nella sua canzone, quindi una svolta anche in questo senso, un cambiamento anche in questo senso. Allora, vi ringrazio, vi ringrazio Francesco Arancio, Graziano Scamarcio di Alfa Parf per questo breve incontro di oggi in attesa della Gran Sare, poi magari ricommentiamo ancora. Andiamo un attimo in pubblicità, Nero, come si dice, ci vediamo tra poco. Grazie.